ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi una piccola sorpresa per voi un giveaway internazionale le regole sono molto semplice seguirmi su youtube e instagram mettere mi piace e commentare ultimi cinque video caricati lasciare un commento sotto questo video sceglierò il vincitore tramite youtube random il 26 di novembre buona fortuna a tutti iscriviti al canale